Il posto tipicamente francese a Rue de Meufdard, dal 5e. Abbiamo Fabio. Ciao a tutti. O per gli amici Mr. Fabulous. S'arraka tu cala me cuquena, mi menta purela con il reloj. Si señor, il reloj, si ha parato alla una alla dos. Buon amenaggio che tiene sposa, con 30 anni meno che, il artefacto lo llevo a la casa, pa' che lo pueda ver su mujer.